Lo Spirito Santo è un dono di Gesù ed è il compagno di cammino di ogni cristiano e anche della Chiesa. Così Papa Francesco, durante l'Omelia della Messa celebrata a Santa Marta, partendo dalle parole che il Figlio di Dio rivolge ai discepoli durante l'ultima cena, il Pontefice ha rimarcato che lo Spirito ci permette di andare avanti nella vita cristiana rendendo testimonianza della propria vocazione, ma per condurre ciascuno alla verità piena, il Paraclito ha bisogno di trovare un cuore aperto e disposto all'ascolto. La Chiesa lo chiama il dolce ospite del cuore. E' qui. Ma in un cuore chiuso non può entrare. Ah, e dove si comprano le chiave per aprire il cuore? No, è un dono anche quello. È un dono di Dio. Signore, aprimi il cuore perché entri lo Spirito e mi faccia capire che Gesù è il Signore.